Ciao 37, in piazza Giochino Belli, altezza Tassi, hanno rubato la borsa col cellulare, ha chiamato sul cellulare suo e l'hanno ricattato dicendo che vogliono 80-100 euro per ritagli il cellulare, se lo passo, prego? Buonasera, mi hanno rubato la borsa, sto a piazza Giochino Belli, però questi ragazzi io li chiamo e mi chiedono il scatto di soldi e tutto quanto e io purtroppo devo fare una denuncia, penso che ho i documenti, non dico i soldi, codice fiscale, patente e tutto, se potete venire almeno gli do il numero S e loro mi rispondono se voi potete rintracciarli, perché ne sono anche scappati, perché l'ho visto pure che ho corso a piazza con la bicicletta e non l'ho preso. Ma come se che sono scappati, i motorino a piedi, come stanno questi? No, no, a piedi, a piedi. A piedi, quindi lei li chiama e gli chiedono dei soldi? Sì, sì, se no non mi ridano la borsa con i documenti dentro. Dove sta lei? Guardi, a piazza Giochino Belli. Ciao un civico. Sì, guardi, io sto con la bicicletta grigia, se mi vedete lì davanti pure al bar, che c'è il bar qui, no? Comunque, guarda, mi vedi, sto in pantaloncini blu, scarte bianche con la bicicletta grigia, almeno vedo il numero, provo a chiamarle e dico sì, vabbè, vi do i soldi, almeno sapete più che altro i documenti. Pronto? Buongiorno, salve, il signor Sergio? No, vabbè, io sono il ragazzo che l'ho fatto chiamare, lui sta già a Giochino Belli. Ah, ok, perfetto. Senta, ma lei non è sul posto, giusto? No, io sono lì vicino, però ho capito che io l'ho fatto chiamare. Ma lei sa come si chiama questa persona? Sergio, Sergio, sento che diceva a voi che si chiamava Sergio. Ah, ok, perfetto. Però quindi lei... Sergio, Sergio! Ce l'ha vista? Pronto? Sì, Carabinieri, signor Sergio, buonasera. Guardi, io sono spiattato a Giochino Belli. Ok, perfetto. E la cosa che voglio sapere, gli hanno chiesto dei soldi in cambio? Sì, sì. Ma queste persone sono lì con lei o gli hanno telefonato per un appuntamento? No, 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 no. No, no, sono scappato, gli hanno preso proprio la borsa. Io stavo a della punta nera ma l'hanno rubato la borsa. Ok, e che gli hanno detto per restituirle questa borsa? mi dice se hai 80, 100 euro ho detto guarda tu porti i meriti però da quello ho visto scappando ho dentro una travesta e forse ha perso la bicicletta ok va bene allora le mando una pattuglia volevo sapere se erano lì cercavo di mandare qualcuno in abiti civili così ho anche il numero mio così li provo a richiamarli vediamo se li intracciamo va bene intanto io le mando la pattuglia lì poi parla direttamente con i colleghi la saluto, arrivederci grazie